Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del corso che abbiamo preparato per voi per imparare a sviluppare un trading system con la Visual Jforex. In questo video capiremo bene cos'è un trading system e quali sono i punti di forza di debolezza del trading sistematico rispetto al trading discrezionale. Cominciamo subito dopo la sigla. Bene, vediamo quindi cos'è un trading system. Un trading system non è altro che un software che viene lanciato sulla piattaforma di trading ed è in grado di operare in maniera completamente autonoma sui mercati finanziari. Un trading system quindi segue delle regole ben specifiche, ben definite, che gli permettono di individuare i setup di ingresso a mercato e quindi è in grado di operare aprendo, gestendo e chiudendo le operazioni sui vari strumenti finanziari. Esistono anche trading system che non hanno la possibilità di operare direttamente a mercato, ma una volta individuati i setup di ingresso, secondo delle regole ben precise, inviano un segnale al trader che poi opera manualmente. Questi vengono definiti trading system semi-automatici. Noi all'interno del corso ci occupiamo solamente di trading system completamente automatici. Questo perché vogliamo slegare la nostra operatività dalla componente umana. Un trading system quindi è un software lanciato sulla piattaforma che opera in maniera automatica, seguendo delle regole ben precise. Ovviamente non è un sistema intelligente, non è qualcosa che pensa, ma è semplicemente un esecutore di un codice estremamente preciso ed estremamente veloce. Il trading discrezionale, invece, proprio come dice la parola, è quel tipo di operatività che ha discrezione del trader. Cioè è il trader che prende tutte le decisioni su come operare. Questo vuol dire che il trader, visto il ruolo fondamentale che ha, deve avere una serie di doti, una serie di caratteristiche che non sono comuni a tutti, non tutti i trader le hanno. Tra queste caratteristiche ci sono un'elevata conoscenza dei mercati, una profonda conoscenza di tutti gli strumenti tecnici che possono essere utilizzati, una veloce capacità di analisi e di esecuzione e forse, aspetto più importante, un elevatissimo autocontrollo e molta disciplina. Capito cos'è quindi un trading system e cos'è il trading discrezionale, possiamo già fare un confronto e vedere alcuni vantaggi. Infatti un trading system può essere accomunato a una macchina automatica all'interno di un sistema di produzione aziendale. Le macchine automatiche, come si sa, possono lavorare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Non si stancano, non hanno bisogno di pause e non perdono la concentrazione. In più, molto spesso sono più veloci e più precise di un'esecuzione manuale. Proprio come le macchine automatiche, anche i trading system periodicamente hanno un bisogno di manutenzione. Manutenzione che consiste nel verificare se il trading system è ancora allineato alle condizioni di mercato attuali. Nel caso non lo fosse e quindi cercogessimo di una perdita di efficacia della strategia, le cose che si possono fare sono o disattivare il trading system, come si fa con una macchina in produzione, oppure si può aggiornare per renderla nuovamente efficace e quindi in linea, in fase, con le condizioni di mercato. A questo punto vorrei fare un'analisi più profonda tra trading sistematico e trading discrezionale. Ovviamente al termine di questa analisi non arriverò alla conclusione che uno è migliore dell'altro, perché dipende da ognuno di noi, dipende dal tipo di operatività che preferiamo, dal tempo che abbiamo a disposizione, dalle nostre conoscenze, dalla nostra esperienza, ma soprattutto dal nostro carattere e dalla nostra indole. Per cui non vi dirò se il trading discrezionale è meglio del sistematico. Io ho fatto la mia scelta, ma poi voi, sulla base delle informazioni che riceverete, dovrete fare la vostra. Per fare questa analisi mi sono ispirato a uno dei migliori libri che ho letto sui trading system, scritto da Robert Pardo e vi consiglio di leggere se volete approfondire l'argomento. In caso vi lascio il link qui sotto in descrizione. Robert Pardo identifica sei caratteristiche principali che sono dei punti di forza del trading sistematico rispetto al discrezionale e sono la verificabilità, la quantificazione, l'obiettività, la consistenza, l'estensibilità e infine la fiducia. Adesso vediamo per ognuno di questi cosa intende l'autore. Con verificabilità si intende la possibilità di verificare se il nostro trading system, la nostra strategia, potrà essere profittevole e in caso con quale livello di rischio in futuro. Questo viene fatto sulla base delle performance ottenute tramite simulazioni storiche. Infatti una volta che il trading system è stato programmato può essere testato sulla piattaforma di trading su un periodo di tempo nel passato. Questo ci permette di capire se il trading system nel passato per 1, 2, 10 anni quello che serve sarebbe stato profittevole o invece sarebbe andato in perdita. Il fatto di sapere che il trading system in passato sarebbe stato profittevole non ci dà nessuna garanzia sulle performance future, però ci dà un po' di fiducia, un po' di tranquillità in più che almeno nel prossimo futuro le performance, il risultato della nostra strategia potrà essere positiva. Ovviamente è possibile verificare anche una strategia manuale, ma ci sono due principali ostacoli. Il primo è essere obiettivi nell'individuazione di tutti i setup di ingresso. Questi devono essere individuati con precisione per essere allineati alla strategia che stiamo utilizzando. Il secondo è il tempo necessario. Infatti analizzare 5 anni di storico individuando tutte le operazioni è un lavoro decisamente molto impegnativo. Una volta che il trading system è stato verificato utilizzando la piattaforma di trading, questa mi genera un report che è ricco di informazioni. Grazie a queste informazioni io posso quantificare le performance del mio trading system nel passato. Posso quindi determinare quanto profitto ha fatto, quante perdite, quante operazioni e di queste quante sono andate in profitto. Tutte queste informazioni mi servono per capire nel dettaglio come si è comportata la strategia nel passato. Quindi posso quantificare le performance del mio trading system. Questo è un grandissimo vantaggio perché posso fare un confronto tra un trading system e un altro trading system, capire qual è il miglior. Oppure confrontare lo stesso trading system utilizzato su strumenti finanziari diversi. Un altro grande vantaggio della quantificazione è che una volta determinato il drawdown e il livello di rischio del mio trading system posso calcolare con precisione la capitalizzazione necessaria per il mio trading system che mi permette di farlo operare sui mercati con tranquillità. La terza importante caratteristica del trading sistematico è l'obiettività. Infatti un trading system operando seguendo regole ben precise lavora senza farsi influenzare da opinioni ed emozioni, cioè lavora in maniera obiettiva. Cosa diversa invece è per il trading discrezionale. Il trader infatti essendo un essere umano è caratterizzato da emozioni, sensazioni, istinto. Tutte queste cose portano il trader a poter valutare in maniera diversa, in due istanti diversi, lo stesso grafico. Una volta fatto un'analisi diversa anche l'operatività potrà cambiare. Gli stati d'animo più pericolosi per un trader sono probabilmente la paura e l'insicurezza dopo una serie di perdite oppure l'avidità e la troppa confidenza dopo una serie di vincite. Probabilmente se il trader osserva un grafico e lo analizza quando è soggetto o una emozione o l'altra probabilmente trarrà delle conclusioni diverse e da questa un'operatività diversa. Questo vuol dire che il trader modificherà la sua strategia senza magari neanche rendersene conto, il che rende tutta la strategia inconsistente. Questo ci porta alla quarta caratteristica del trading sistematico che è la consistenza. Per consistenza si intende la capacità di seguire sempre le stesse regole qualunque cosa accada. Il fatto di seguire sempre la strategia senza errori ci permette poi di trarre delle conclusioni su come sta andando la nostra strategia. Posso infatti calcolare qual è il profitto e qual è la perdita, sapere la percentuale di successo dei miei trade o sapere qual è il guadagno medio di tutti i trade che ho fatto. Ovviamente questo poi mi permette anche di fare un confronto fra la mia operatività in reale sui mercati e le performance ottenute con le simulazioni storiche e capire se la mia strategia è ancora profittevole o meno. Ovviamente se la mia strategia continua a mutare come per esempio non viene eseguito un trade anche se il setup d'ingresso ci sarebbe stato perché il trader non si fida, questo ci porta ad alterare completamente tutti i dati e quindi non riesco più a determinare se la mia strategia è effettivamente profittevole o meno. Il quinto punto di forza del trading sistematico è l'estensibilità. Con l'estensibilità si intende la possibilità di utilizzare la stessa strategia su strumenti finanziari diversi o su non riesco a diversificare la mia operatività. Diversificare vuol dire ridurre il rischio. Tutto questo ovviamente in funzione del capitale che ho a disposizione e della capacità di calcolo del mio computer. Tuttavia posso aumentare il numero di trading system a mercato senza nessuno sforzo per il trader perché una volta verificato che tutto funziona correttamente il trader non deve più fare niente. Questi cinque aspetti ci portano forse al più importante di tutti e al punto di forza principale del trading sistematico che è la fiducia. Una volta che ho verificato tutti i miei trading system, ho quantificato le performance, da questo ho capito quali sono i migliori e per ognuno ho segnato la corretta capitalizzazione, io posso lavorare a mercato con un livello di confidenza che mi permette di non sperare più di essere profittivole perché io so che sarò profittevole sul lungo termine. Non devo più sperare che i miei sistemi funzionino bene e mi danno un profitto perché so che mi daranno un profitto. Ovviamente l'unica cosa che dovrò fare è sperare che il mercato non cambi troppo, dovrò quindi verificare che le condizioni di mercato siano sempre allineate a quelle sulle quali ho sviluppato il trading system perché altrimenti la mia strategia potrebbe perdere di efficacia e non essere più profittevole come in passato. Ovviamente in questi casi quello che si fa è fare un'analisi, una valutazione sulla base della quale si decide se il trading system va disattivato per attivarne altri oppure va aggiornato per renderlo di nuovo in fase con le condizioni di mercato attuali. Ora che abbiamo visto quali sono i punti di forza del trading sistematico rispetto al discrezionale vediamo anche quali sono i punti di debolezza, quali sono gli ostacoli che potremmo incontrare. Anzitutto per sviluppare un trading system sono necessarie delle competenze di programmazione ed è necessario saper utilizzare dei software specifici. Su questo non dovete preoccuparvi perché grazie a questo corso voi imparerete a utilizzare tutti i software che servono e in più vi spiegherò quali sono le logiche che stanno alla base dello sviluppo di un trading system. Vi accorgerete quindi al termine del corso che creare la propria strategia non è così complicato e sicuramente non serve una laurea in ingegneria informatica. Un altro aspetto da considerare quando si vuole approcciare il trading sistematico è quello dell'infrastruttura informatica che comprende il computer che viene utilizzato per sviluppare i trading system e l'utilizzo di una VPS. Per quanto riguarda il computer è necessario che questo abbia una potenza di calcolo adeguata non tanto per lo sviluppo del trading system in sé ma più che altro per la sua verifica e la sua ottimizzazione. Ovviamente non serve un computer di ultima generazione potentissimo va bene quello che avete a casa l'unica cosa che se il computer non è sufficientemente potente i tempi necessari per verificare ottimizzare il trading system potrebbero dilatarsi parecchio. Il consiglio comunque al momento è quello di utilizzare il computer che avete non preoccupatevi di questo poi in futuro potrete valutare se fare un investimento e prendere una macchina più performante. Per quanto riguarda la VPS cioè server virtuale si raccomanda generalmente di lanciare i propri trading system su una di queste macchie questo per evitare che le proprie strategie vengano interrotte a causa dello spegnimento del nostro computer che può essere per una comunissima causa come mancanza di corrente elettrica un aggiornamento di windows o un guasto. Sarebbe infatti un bel problema se i nostri trading systems smettessero di lavorare con delle operazioni nel mercato e né noi né i nostri sistemi potessero gestirle. Anche su questo aspetto non preoccupatevi perché il broker che abbiamo scelto come vi spiegheremo nel prossimo video mette a disposizione di tutti i suoi clienti sia che abbiano un conto demo che reale delle slot sui propri server per poter lanciare le strategie automatiche. Tutto questo gratuitamente per cui al momento non preoccupatevi della VPS eventualmente in futuro potete appoggiarvi al vostro fornitore di VPS che preferite ma al momento utilizziamo il nostro consiglio è quello di utilizzare quelli che ci mette a disposizione il broker. Bene ragazzi con questo siamo giunti al termine del video spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile e adesso abbiate le idee un po più chiare sulle differenze tra il trading sistematico e il trading discrezionale. Fateci sapere nei commenti sotto come la pensate se avete già avuto qualche esperienza col trading sistematico o con quello discrezionale e se state anche pensando a qualche altro vantaggio o svantaggio dell'uno rispetto all'altro. Se vi è piaciuto questo video come sempre vi chiedo di lasciare un bel like sotto per supportare il nostro lavoro ed iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per essere avvisati non appena uscirà il nostro prossimo video. Io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. Ciao!